Interrogatorio fiume per Chiara Rizzo. Nel carcere di Argillare, Gio Calabria, Lady Matacena è stata interrogata per quasi 5 ore dal sostituto procuratore della DDA Giuseppe Lombardo e dal sostituto procuratore nazionale antimafia Francesco Curcio. Secondo i suoi legali, la Rizzo avrebbe risposto punto su punto alle contestazioni mosse dall'accusa. Il contenuto dell'interrogatorio, come avvenuto anche per Scaiola, è stato secretato e le dichiarazioni rese dalla moglie di Amedeo Matacena verranno ora messe a confronto con quelle dell'ex ministro. Dal raffronto, i PM potranno verificare se le due versioni coincidono o se vi siano delle discrepanze. Intanto, gli avvocati di Chiara Rizzo hanno depositato un documento che smentirebbe l'ingerenza della donna negli affari del coniuge a Dubai. Si tratta di una dichiarazione del Monte Paschi di Siena che smentisce una precedente dichiarazione della stessa banca. Al termine dell'interrogatorio, i difensori hanno presentato istanza di revoca della misura cautelare e dunque la scarcerazione. Una richiesta basata su due presupposti, l'incompetenza territoriale della DDA Regina e delle imprecisioni contenute nel mandato d'arresto europeo notificato a Nizza. Si attendono ora le mosse della Procura. Intanto è di nuovo in libertà Roberta Sacco, la segretaria di Claudio Scaiola, è stata rilasciata per scadenza dei termini fissati per la carcerazione preventiva.